Quello, come il vento, busco, chiero se... Carol, mi devi ascoltare, ti puoi togliere le cuffie per favore? Ehi, mi hai spaventata! No, non volevo spaventarti, sapevo benissimo che stavi ripassando la canzone per il tour. Beh, certo, devo studiare! Ma dobbiamo ripassare anche le coreografie! Lo so, bisogna allenarsi, ma non ho i miei pattini! Ok, ce l'hai i pattini? No, non ce li ho, li ho lasciati a Cancun! Beh, meno male, sai che c'è? Sono così intelligente che ti ho fatto un regalo! Ah, davvero? Ti ho fatto un mini regalo! Sul serio? Fai vedere! Sì, lo vuoi vedere? Sì! Chiudi gli occhi e dammi due dita! Ecco qui, ti ho regalato dei mini pattini per allenarti! Grazie, è un'idea stupenda! Guarda, li ho fatti anche per me! Li hai fatti tu? Li ho fatti io! Ah, ma che bravo! Hai un talento nascosto, quindi? Sì, la verità è che sono un grande artista! Ah, fantastico! Mi piacerebbe ripassare Vuelo! Vuelo, perfetto, andiamo! No, o sempre Kuntos! Dai, ma come? Sempre Kuntos! Sempre Kuntos, vai! È nostra voce la che muove il mondo! È magico perché stiamo tutti Kuntos! La delma suerte è il nostro corazone! Pa, 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 pa! Bene! Molto bene! Fatelo anche voi a casa, perché in realtà è molto, molto facile! Sì, dopo te lo insegno e tu lo insegni a loro se fai! Perfetto, fantastico! Bene, ciao ragazzi! Ci vediamo! Andiamo a patinare! Andiamo! Vai, andiamo! 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 Grazie a tutti.